Vodafone Ready? Hai già pagato o devi ancora pagare le sue rate in bolletta? Rivolgiti a BassaBollette, il nostro servizio legale e gratuito, per annullare le rate residue e persino ottenere un rimborso per quelle che hai già pagato, senza alcun costo per te. Allora clicca sull'annuncio, ti ricontatteremo subito per una consulenza gratuita.